Allora, ho deciso di terminare questo corso presentando questo concetto, cioè il concetto di come si può realizzare codice malevolo utilizzando il C. Sì, ovviamente questa non è una scelta che mi lascia del tutto indifferente perché mi pongo anche io il tema, se abbia un senso, all'interno di un corso universitario, poi introduttivo fra l'altro come questo qui, che è un corso che vi ha introdotto ai concetti dell'informatica e della programmazione, terminare con la presentazione di un'idea che è la realizzazione sostanzialmente di un virus, cioè di introduzione di un codice malevolo all'interno di un programma che non è molto etico, diciamo. E lo scopo sostanzialmente per cui faccio questo è per illustrare le vulnerabilità del linguaggio che abbiamo utilizzato in questo corso, cioè del linguaggio C o anche C++. C è un linguaggio cosiddetto, io lo dico così perlomeno pensato da americani, quindi molto pragmaticamente orientato alla velocità e all'efficientamento della gestione della memoria e quindi occupare meno memoria possibile ed essere il più veloce possibile. Se poi dopo questi obiettivi, riduzione dell'occupazione della memoria, riduzione del tempo impiegato, possono in qualche maniera lasciare aperto il campo a delle vulnerabilità, a degli utilizzi malevoli del codice, e questo qui in una filosofia diciamo così americana, un pochino se volete calvinista, un pochino leggermente anche un pochino l'etica ebraica, cioè lasciare la responsabilità a chi progetta e realizza gli artefatti, la responsabilità di quello che sta facendo. Per contro c'è nel mondo occidentale c'è un'altra etica che in questi tempi è prevalente per esempio in Europa, che è quella di magari impedire che ci si possa fare del male, e quindi è molto orientata al welfare e quindi sostanzialmente se c'è una tecnologia che lascia spazio ad un utilizzo pericoloso, si cerca sostanzialmente di vietarla di quella tecnologia, di trovare delle forme meno pericolose, perché quasi che non si abbia fiducia nell'individuo, nella capacità di utilizzare quella tecnologia per il bene e quindi anche senza eventualmente correre troppi pericoli. Già il c++ è certamente un pochino meglio del c, perché per esempio proprio il problema che vediamo oggi, il problema del buffer overflow, se si utilizzassero invece che le c stringhe, le stringhe del c++, la string che abbiamo leggermente parlato in ultima lezione, se si utilizzasse invece che gli array del c, che mi ha detto chi ha condotto questo corso, che non esistono, in realtà non esistono gli array vettori, esistono solo i puntatori, quando si alloca un array in realtà si alloca spazio in memoria per l'array, e poi si affida l'indirizzo del primo elemento dell'array a un puntatore, poi si lascia il puntatore scorrere lungo l'array, e che significa che intanto deve cominciare a scorrere dalla parte giusta, perché comincia a scorrere dalla parte sbagliata, per esempio diminuendo il valore del puntatore invece che aumentandolo, comincia a correre dalla parte sbagliata e quindi già fuori dal vettore. Se comincia a correre dalla parte giusta, quindi dal primo verso il secondo elemento, il terzo elemento, il quarto elemento, poi bisogna che prima o poi finisca, perché se va a correre oltre il termine del vettore, questo si chiama buffer overflow, può andare a leggere zone, celle di memoria non consentite, o peggio ancora, a scrivere in celle di memoria non consentite. Questo normalmente si risolve in un segment violation, un segment overflow, a seconda di dove è collocato quel vettore. In casi più problematici, come quello che stiamo per vedere, potrebbe questo sforamento del vettore introdurre degli elementi utili a chi vuole fornire elementi utili a chi vuole introdurre del codice malevolo, utilizzando il meccanismo di ritorno dalla chiamata di una funzione e quindi di gestione, ritorno nello stack mediante la RET. Allora, cerchiamo di andare anche in un per ordine, vorrei anche dire questo, insomma, che considero comunque utile parlare di queste cose anche in un corso universitario, perché le cose bisogna conoscerle, secondo me. Conoscere di per sé è sempre positivo, sapere, perché poi le azioni, chiaramente qui stiamo nell'ambito dell'etica che non è il mio campo, però io credo che le azioni non abbiano un valore etico positivo o negativo di per sé, ma quello che è importante ai fini di giudicare eticamente un'azione è capire qual è la motivazione per cui viene compiuta quell'azione. Non c'è niente, per esempio, di più violento del bisturi di un chirurgo, però siccome il chirurgo sta operando una grande violenza, ma lo sta facendo a fin di bene, per questo ovviamente riconosciamo che l'azione è un'azione non solo consentita, ma che ci si augura di poter fare. Così, anche qui, adesso sarà molto difficile che quello che stiamo per vedere possa essere considerata un'azione che potrebbe avere dei fini buoni, però la conoscenza del fatto che si possa compiere questo genere di azione è bene che sia nota, perché la conoscenza di per sé ha un valore positivo, è potere, e ovviamente dà questo potere, come diceva, mi pare di ricordare il nonno dell'uomo ragno a nipote Peter Parker, come l'ascito prima di morire, mi pare di ricordare nel film che da un grande potere nasce una grande responsabilità, dal potere della conoscenza nasce una grande responsabilità, quella di utilizzarla per il bene. Quindi, perché sto facendo questa raccomandazione? Perché stiamo in un corso universitario, le azioni tutte quante devono essere orientate per il bene e la conoscenza devono essere orientate per il bene. Come fare dei virus non è ovviamente tipicamente un qualche cosa che è orientato per il bene, ma sapere come vengono compiuti è bene, perché ovviamente anche in un'ottica di contrasto è bene le cose saperle, come in altri campi stiamo vivendo anche in questo periodo. Se noi avessimo avuto una conoscenza perfetta di tutti i virus che si potevano concepire nel mondo, e oggi avremmo in questi mesi sofferto di meno, il pianeta avrebbe, il mondo avrebbe sofferto di meno. Dopo tutto questo sprolovio iniziale, che mi serviva per cercare di non turbare le coscienze, vengo al punto. Vediamo proprio per quale motivo il CI negli anni ha lasciato parte del suo spazio a linguaggi più evoluti, come per esempio il Java, che non utilizzando i puntatori non consente di poter avere il buffer overflow. Perché è pericoloso il buffer overflow? Per vari motivi. Vediamo il più semplice di tutti. La possibilità, cioè, di poter introdurre un virus, un Trojan virus. Per capire come questo sia possibile, dobbiamo ovviamente far riferimento a come è organizzata la memoria all'interno del sistema operativo, cioè come il sistema operativo organizza la memoria e la mette a disposizione per i processi. Questo non è tipicamente un argomento di fondamenti di informatica, però ho bisogno un attimino di inquadrare il discorso. e ovviamente l'esempio che sto per fare fa riferimento a un particolare sistema operativo, quello su cui sta girando quello che utilizzo io nelle mie macchine, cioè Linux, però un discorso simile si può fare anche per gli altri sistemi operativi. Nel caso di Linux, per esempio, vediamo una semplice applicazione, un main, che chiama una funzione, entrambi poi dopo avranno del codice aggiuntivo, e sulla parte destra vedete come è organizzata la memoria. Forse ne avevo parlato nella parte di teoria che avrete visto su altri video. Vedete che sostanzialmente quando parte un programma, cioè quindi nasce un processo, il sistema operativo, Linux in questo caso, associa a quel processo grossomodo tre segmenti di memoria importanti, e cioè il segmento testo, dove c'è il codice vero e proprio binario ovviamente, il segmento dati, che qui vedete è costituito dai due global data, cioè BSS e l'altro inizializzate global data, data ovviamente, e poi c'è un segmento stack, che qui vedete è costituito in realtà da tre parti, adesso cerco di illustrare, intanto dico che il segmento data è diviso in due parti, il segmento dati inizializzati, questi sono i dati globali, cioè quelle variabili che vengono definite prima del main, e sono di due tipi, quelle che vengono definite prima del main e inizializzate, quelli vanno inizializzate global data, quelli che invece vengono definite prima del main e non inizializzate, e vanno in questo altro qui, sia BSS per motivi storici, non sto da raccontare. Sopra c'è lo stack, che in realtà è diviso in due parti, lo stack, innanzitutto c'è la parte più alta di tutte, che ci sono, vengono messe qui le variabili d'ambiente, stiamo praticamente, che non sapete cosa sono, ma non fa niente, e vengono messe qui anche i comandi che vengono dati al nostro programma, quando lo facciamo partire, da riga di comando, vi ricordate quelli che eventualmente vanno a finire all'interno del main, e ne abbiamo parlato in un precedente video, in un precedente lezione. Poi sotto c'è lo stack vero e proprio, che serve per le chiamate delle subroutine, cioè le chiamate di funzioni o procedure, questo dovresti aver visto sempre in un video della teoria, e il segmento stack, che comprende anche l'ip, cresce dall'alto verso il basso, cioè da indirizzi alti verso gli indirizzi bassi. Lo ip invece, che fa parte del segmento stack, e nella parte bassa cresce dal basso verso l'alto, è riferito alla memoria dinamica, quindi tutte quelle variabili che vengono allocate in C++ con la parola chiave new, in C con la parola chiave malloc, con la funzione malloc, in C++ con la funzione new, vengono allocate in questa zona qui della memoria. Ora, questo quadro di massima serve sostanzialmente, quello che è importante focalizzare, è lo stack, la parte proprio stack, che serve per gestire le chiamate alle funzioni. Lo stack cresce dagli indirizzi alti, verso gli indirizzi bassi. Allora, entriamo un pochino nel video, e cerchiamo di capire come funziona, richiamando un concetto che dovresti aver visto, quando abbiamo parlato dell'assemblea e della teoria, richiamando quei concetti, vediamo come funziona la mandate in esecuzione di una funzione, mediante l'istruzione in assembly del call, call, nome della funzione. Allora, quando il main, qui vedete, fa partire la funzione, manda in esecuzione la funzione. Di fatto, quello che accade, c'è una istruzione che si chiama call, e questo è il punto dove siamo, e qui vedete anche a sinistra il segmento testo, dove c'è il codice binario, a destra vedete l'organizzazione dello stack, che supponiamo che all'inizio sia nel punto dove il main l'ha portato lo stack. E abbiamo qui i tre registri fondamentali del microprocessore, anche questo dovreste aver visto nella prima settimana di lezione, in seconda settimana di lezione, e in particolare i tre che ci interessano, i tre più importanti che ci interessano sono, i più importanti di tutti, è l'extraction pointer, che è il registro del processore che punta alla istruzione corrente del codice. Siamo arrivati quindi alla chiamata della funzione, qui funzione, quando viene chiamata la funzione, di fatto la istruzione binaria è la call della funzione, ed è questa istruzione puntata, nel senso che l'indirizzo di questa funzione è qui nell'extraction point, extended instruction point. Gli altri due registri che vedete nella parte destra sono il registro che punta alla base dello stack BP e il registro che punta invece alla sommità dello stack SP. In questo momento non abbiamo ancora chiamato la funzione, per cui tutti e due questi registri stanno puntando alla medesima locazione nello stack. Dopodiché vi anticipo che dato l'indirizzo del base pointer, quelli che sono gli argomenti passati alla funzione si troveranno aggiungendo, aggiungendo, facendo crescere il base pointer, adesso lo illustrerò, invece le variabili locali della funzione saranno individuate diminuendo il base pointer, cioè quindi facendolo scendere verso il basso. Adesso sarà chiaro facendo un esempio. L'esempio proprio lo prendiamo dalla funzione che vediamo qui. Qui c'è la nostra funzione che ha due argomenti, un argomento di tipo carattere e un argomento di tipo intero, A e B, e poi ha due variabili locali, una di tipo carattere C e una di tipo intero D. L'ho fatto così appunto per cercare di far vedere che è tutto indipendente ovviamente dal tipo delle variabili, il concetto che andiamo a vedere. Alla chiamata della funzione, il main passerà a questa funzione, al parametro A di tipo carattere passerà una A maiuscola, un asci, e al parametro B, in intero, passerà il valore 1. Allora, siamo qui, quindi innanzitutto viene eseguita la call. Appena viene eseguita la call, l'indirizzo, l'instruction point, dovrà puntare l'istruzione successiva alla call nel codice, quindi quella che dovrà essere eseguita dopo la call. Questo è quello che sta succedendo. Dopodiché, cosa succede? Vengono scritti nello stack i parametri attuali, quelli con cui la funzione viene chiamata, e vengono scritti, fra l'altro, da destra verso sinistra, quindi prima viene passato l'1, e quindi l'ho scritto qui su 4 byte, fra l'altro in little endian, per cui in complemento a 2, l'1 sarebbe 0, 0, 0, 1, e scrivendo in little endian viene scritto 1, 0, 0, 0. Successivamente viene scritto anche sullo stack il secondo parametro, cioè il valore dell'asci maiuscolo A, che eccolo qui, l'ho scritto dopo. E poi viene aggiornato il puntatore alla sommità dello stack. Non l'avevo detto, questo qui è SP, è il registro che punta alla sommità dello stack. Ecco che vedete che adesso questi due registri, base pointer e stack pointer, sommità pointer, gestiranno lo stack. Quindi il base pointer rimane puntato alla base, lo stack pointer cresce, a significare che abbiamo immesso dati all'interno dello stack. Successivamente quello che accade è che viene un'operazione fondamentale che fa la call, è salvare nello stack il registro AIP. Perché è importante salvare nello stack il registro AIP? Perché al termine, adesso il flusso del programma dovrà saltare alla funzione, ma al termine della funzione, quando la funzione terminerà, bisognerà tornare a quella che era l'istruzione che compariva dopo la call nel codice del main. E quindi questo indirizzo, l'indirizzo della funzione, della istruzione che sta dopo la chiamata, la funzione, bisogna salvarlo, e viene salvato questo indirizzo nello stack. ecco quello che succede. E a questo punto, dico fra l'altro, non l'ho detto, che tutte le funzioni, main compreso, vengono chiuse da una ret, quindi la funzione è, altro che il codice che va dal momento, questo è il ret del main, chiedo scusa, la funzione, il codice che va dal primo indirizzo della funzione fino alla ret, quindi il codice poi viene eseguito in successione, una per una le istruzioni, fino alla ret. La ret farà la pop dell'indirizzo IP, questa è una cosa che adesso lo rivediamo, ma dovreste averlo già visto nella parte in cui ho parlato dell'assembly. Siamo al punto in cui viene salvato dalla call l'extraction pointer nello stack. A questo punto viene aggiornato ovviamente il puntatore alla sommità dello stack e poi a quel punto avviene il vero e proprio salto e cioè la call completa il suo lavoro andando a scrivere nell'extraction pointer nell'extraction pointer l'indirizzo della prima istruzione della funzione che ha chiamato e quindi a questo punto parte la funzione vera e propria. Parte la funzione vera e propria e continua a lavorare sullo stack. Innanzitutto per prima cosa in realtà la call completa la sua il suo lavoro salvando sullo stack anche il valore del base pointer. Questo perché al termine della funzione il base pointer dovrà tornare a puntare la locazione dello stack che puntava prima che partisse la funzione e quindi viene salvato anche il base pointer. quindi l'instraction pointer viene salvato per ritornare all'istruzione successiva alla call e il base pointer viene salvato perché al termine bisogna ripristinare lo stack a dove stava prima che venisse utilizzato dalla funzione. Al termine della funzione bisogna ripristinare lo stack al punto riportare lo stack al punto in cui era prima che partisse la funzione in mani da consentire al main di proseguire con il resto del suo codice. quindi viene salvato anche il base pointer e a quel punto ovviamente viene aumentato anche il puntatore e la sommità dello stack pointer perché a questo punto sempre sullo stack dobbiamo andarci a riportare le variabili locali della funzione quindi abbiamo qui che viene chiamata una funzione char viene allocata sullo stack una funzione char c una variabile char c e poi verrà allocata anche una variabile int d quindi queste vengono allocate ovviamente anche il base pointer a questo punto mi dimenticavo viene aggiornato perché a questo punto il base pointer era stato salvato appunto perché poi verrebbe viene aggiornato e va a puntare va a collocarsi questo sarebbe dove il base pointer dello stack quando comincia a lavorare la funzione vedete che si colloca anche il base pointer va a puntare la sommità dello stack a questo punto scusate mi dicevo vengono allocate le variabili locali quindi viene allocate nell'ordine in cui sono scritte all'interno della funzione quindi prima la prima e poi la seconda vengono allocati viene allocato spazio per quello perché vedete che sono variabili locali che non sono state inizializzate quindi viene semplicemente allocato lo spazio e a questo punto viene anche aggiornato il puntatore alla sommità dello stack e ci siamo ora che cosa succede succede che la funzione prosegue la sua esecuzione quindi esegue il codice che vedete qui indicato generalmente con codice e quindi parte la funzione quindi una dopo l'altro vengono eseguite le istruzioni che qui non vedete indicate a sinistra e si procede giù fino alla ret quando l'extraction pointer punta la ret della funzione che è partita a questo punto viene eseguita un'operazione l'operazione più importante che viene eseguita è la pop dell'extraction pointer che è stato salvato nello stack ma in realtà vengono eseguite varie istruzioni questa è la prima la più importante in maniera tale da si legge adesso non so se vedete i puntatori qui del mouse credo che me lo vediate voi si va a leggere dall'extraction pointer che era stato salvato sullo stack il valore e si manda il vero extraction pointer il registro a puntare la successiva istruzione alla call nel codice originario quindi viene ripristinata la situazione per quanto riguarda il session pointer come era prima che partesse la funzione e poi a questo punto si ripristina anche il puntatore alla sommità dello stack che va a puntare quello che era lo stack prima la sommità dello stack prima che partesse la funzione lo stesso avviene anche per il base pointer e dopo tutto il resto a questo punto in realtà rimane lì però io qui in questa animazione insomma ho voluto far vedere che viene tolto in parte viene tolto in realtà rimane tutto lì e semplicemente che dopo chiedo scusa sono già passato al punto più importante di oggi che è cosa succede a questo punto se io vado a fare un buffer overflow ripeto tutte quelle informazioni sono rimaste nello stack però adesso non torno indietro alla fine della funzione sia il base pointer che lo stack pointer vanno a puntare l'indirizzo dello stack che stavano puntando prima che la funzione venisse eseguita ora veniamo al caso in cui io suppongo che di voler introdurre in qualche maniera del codice malevolo utilizzando l'indirizzo di ritorno dell'extraction pointer come posso fare potrei fare questo è il concetto più semplice ovviamente di virus che si possa concepire la cosa più semplice che posso fare è quella di utilizzare il buffer overflow supponiamo che la mia avrei di avere una funzione che qui ho chiamato cavallo di troia e il motivo penso che sarà evidente perché l'ho chiamato così è che ha come variabile locale un vettore di 5 caratteri ecco questo è il modo in cui si dichiarano i vettori in C è il modo quindi che è aperto a possibili problemi non è il modo in cui si dichiarano i vettori in C++ perché si usa la classe vector che questi problemi dopo cerca di non presentarli dunque supponiamo che sia di aver allocato questo vettore di 5 caratteri eccoli là 5 byte che poi dopo andremo in qualche maniera a popolare cioè a valorizzare e qui in questo è solo un esempio la valorizzazione di questo vettore viene fatta andando a leggere dal canale dall'input standard va bene allora questo è in pratica quello che accade quando viene il main manda l'esecuzione questa funzione Trojan ora vedete qui che io suppongo anche che all'interno di questo codice chiaramente questo non è un'operazione non mi pare un'operazione dovuta a errore mi pare un'operazione dovuta a ma male ma brutte intenzioni insomma perché c'è una funzione che io ho chiamato nascosta che che poi dopo la chiamano insomma nell'esempio che faccio un pochetto più evocativo ancora una funzione che la chiamo nascosta perché effettivamente se vado a vedere il main il main chiama questa funzione cavallo di Troia e questa funzione cavallo di Troia alloca la sua variabile vocale e poi la va a utilizzare ma insomma questa funzione nascosta chi la chiama? non la chiama al mail non la chiama a questo e quindi chi potrà mandare in esecuzione? nessuno perché ovviamente sì sta lì verrà anche compilata però nessuno la manda in esecuzione dunque per il momento la chiamo così nascosta e ovviamente suppongo che questa che questa funzione qui visto che è stata introdotta lì per malignità ci avrà anche un codice chiaramente malevolo atto a farti danni perché se no chi sta a fare lì probabilmente ce l'ha messa qualcuno apposta allora cosa succede? succede che se io adesso vado a se chi usa chi batte dall'input i caratteri per andare a riempire questo buffer invece che batterne solo 4 perché ci dovrebbe anche mettere anche il terminatore se ne mette 5 il terminatore verrà scritto qui posto che posto che il variabile locale il buffer venga allocato subito dopo e cioè in maniera proprio contigua a dove era stato allocato il base pointer che cosa succede? succede che se d mi cresce d mi cresce mi va a scrivere sull'ultimo byte del base point e poi se cresce 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 dove va a finire? va a finire anche nell'indirizzo che avevo salvato dove avevo salvato l'extraction pointer e qui cominciano i problemi perché praticamente se io vado se faccio un se faccio un buffer overflow ecco quello che accade perché vado a sovrascrivere il base pointer e l'extraction pointer che avevo salvato sullo stack quindi a questo punto quando il Trojan arriverà alla sua rette dove andrà poi a finire il flusso di esecuzione del programma e dove andrà non lo sappiamo perché andrà in base all'indirizzo che sarà scato scritto in questi 4 byte e probabilmente sarà un indirizzo che andrà a puntare un indirizzo di memoria qualunque che in tutta probabilità sarà anche un indirizzo non accessibile e quindi avremo per esempio un core dam oppure non so stack overflow avremo una qualche manifestazione di errore e il programma abortirà andrà in crash e questo sarà l'effetto del buffer di aver stravalicato i limiti del buffer e quindi aver compiuto questo buffer overflow è tutto qui a meno che a meno che io non in qualche modo non conosca qual è l'indirizzo della funzione nascosta e non possa in qualche maniera trovare dei meccanismi per poter andare a influire su questo meccanismo in maniera tale che la sovrascrittura dell'indirizzo dei 4 byte in cui sto supponendo ovviamente di aver avuto di stare utilizzando un'architura in cui i puntatori sono a 32 bit quindi un'architura a 32 bit e a 4 byte quindi per semplicemente per semplificare la figura ovviamente e devo andare quindi se io conosco qual è l'indirizzo della nuova della funzione nascosta ci vado a mettere in quei 4 byte dove avevo salvato gli station point proprio l'indirizzo di questa funzione cosicché quando il trojan fa la ret invece che restituire il flusso del programma al main che l'aveva chiamato manda in esecuzione la funzione nascosta ma non è facile non è intuitivo perché io devo sapere qual è l'indirizzo di questa funzione cioè supponiamo che io ho la mia funzione nascosta che qui vedete ho chiamato Ulisse per cercare di far capire qual è il punto e cercare di essere il più evocativo possibile se io nel fare il buffer overflow vado a scrivere in quei 4 byte l'indirizzo della funzione Ulisse succede che quando il trojan arriverà alla ret invece che restituire il flusso del programma al main manderà in esecuzione la funzione Ulisse ecco qua per un attimo avete visto il concetto che volevo illustrare però adesso non la facciamo ripartire eccoci qua allora abbiamo quindi la nostra funzione il nostro main e la nostra il nostro cavallo di Troia e il nostro Ulisse nascosto che è laggiù vedete che il main manda in esecuzione il cavallo di Troia e il cavallo di Troia non manda in esecuzione Ulisse neanche il main manda in esecuzione Ulisse ma c'è un Ulisse laggiù che non si sa che cosa sta facendo e per dare un minimo di significato alla cosa ho cercato di far così che il main chiama innanzitutto mi apre un flusso file che ho definito me lo associa a un file Giacomo Leopardi lo associa in lettura e poi manda in esecuzione il cavallo di Troia il cavallo di Troia è una roba che che cosa fa mi va a leggere sto sto file che io gli ho passato anzi non glielo ho passato ma è globale e quindi lo può comunque andare a consultare e poi da lì prende i byte per popolare per popolare il buffer che ha allocato precedentemente nello stack dopodiché questo buffer lo utilizza per stampare in output quindi in pratica che cosa si farà sto Troian sto Troian è un programma excel serve per leggere poesie io gli passo una poesia un testo di una poesia e lui poi me lo scrive in output ovviamente per cercare di rendere semplice il programma più possibile intuitivo ho utilizzato l'operatore che conosciamo bene gli operatori che conosciamo bene ho usato sia l'estrattore per estrarre da un flusso e l'inseritore per inserirlo in un altro flusso quindi questo estrarre da flusso file e mette in un vettore questo invece prende da un vettore e inserisce nel flusso di output la struttura del programma credo che sia chiara e questo si chiama Troian appunto cpp e adesso lo vado a compilare con g più più lo vado a compilare e quindi dirò che il l'esecutivo il binario si chiama Troian eh no meno Troian e poi vado a compilare quindi Troian punto cpp così cpp così questo era il nome del file che contiene l'eseguibile poi vado a dare delle opzioni ovviamente io sono quello che sta facendo il virus e quindi conosco insomma sono un pochino meno 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 il fatto mio e quindi vado a utilizzare la conoscenza che ho per scopi appunto diciamo poco etici e quindi dico di compilare dico al compilatore di andare a compilare con l'opzione di aspettate che prima scrivo perché altrimenti mi confondo le idee protektor allora nel corso degli anni ovviamente sapendo quali sono questi problemi qui i compilatori sono evoluti nel senso di andare a produrre codice che qualora si andasse a solo a scrivere zone dello stack non consentite questo ci sono dei meccanismi di protezione ovviamente però per motivi di efficientamento per motivi vari nella filosofia americana si può anche mandare il compilatore questo è il GCC di Richard Stallman anche il G++ quindi per il C++ si può anche mandare il compilatore minatale da disabilitare questo il sistema di protezione dello stack quando si va a compilare quindi così abbiamo disabilitato la protezione dello stack poi siccome io sto su un'architettura a 64 come anche voi ce l'abbiamo tutti quanti a 64 bit con l'opzione meno 32 vado a compilare codice che sarà esegibile anche su un'architettura a 32 bit questo è cross compilation si chiama così un esegibile prodotto per un'architettura a 32 bit può essere eseguito anche un'architettura a 64 bit il contrario non è vero allora quindi vado a compilare in maniera tale che possa essere eseguito anche su un'architettura a 32 bit perché adesso sto facendo i calcoli in maniera tale da considerare puntatori di 4 byte ciascuno poi un'altra tecnologia che si è evoluta negli anni è quella di è quella di creare dei binari quando si va a compilare in cui gli indirizzi delle funzioni delle variabili siano il più possibile indipendenti dall'indirizzo vero nel senso perché si vuole che per tecniche di gestione della memoria che adesso lo vedrete nel corso di sistemi operativi i programmi si possono facilmente rilogare nella memoria da una zona all'altra quindi quello che è importante nel valutare l'indirizzo di una funzione o di una variabile quindi c'è il nome di una variabile o il nome di una funzione a valutare considerare non l'indirizzo assoluto ma l'indirizzo relativo a dove inizia quel segmento con questa opzione quello si chiama position independent executable position independent executable pie se io metto no pie così con quell'opzione lì io posso andare a vedere qual è proprio l'indirizzo esatto di quella funzione o l'indirizzo esatto di quella variabile con questa compilazione ovviamente io sono uno che queste cose le fa di mestiere quindi so il fatto mio e vado a compilare a questo punto dovrei aver compilato questo binario quindi vado a vedere ecco qui c'è un eseguibile trojan che è stato fatto a mezzogiorno e un quarto del 28 maggio ci siamo ora io devo andare a vedere un po' di cose lì dentro devo vedere quali sono gli indirizzi soprattutto devo andare a vedere qual è l'indirizzo della funzione nascosta inoltre devo andare a vedere qual è l'indirizzo dove è stato messo il buffer della funzione trojan devo vedere l'indirizzo della funzione ulisse e devo vedere dove è messo il buffer della funzione trojan per vedere questo faccio un obje obje dump obje dump e vabbè meno d per il decimale vado a vedere trojan vado a vedere vado a disassemblare il binario lo faccio e poi lo commento cosa più cosa significa ecco qua quello su sparapacchi di roba che state vedendo adesso è molto 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 interessante è praticamente l'eseguibile dove però allora siamo arrivati all'inizio questo è praticamente l'indirizzo del primo byte del binario questo è la prima istruzione proprio la 53 che sarebbe push e b e bx viene messo sullo stack e il contenuto del registro e bx comunque questa parte qua è una cosa che riguarda il sistema operativo vedete che fra l'altro termina sempre con la ret che adesso non ci interessa allora ovviamente il tempo sta scorrendo inesorabile e poi queste sono cose che non ci interessano adesso a noi andiamo a cercare le cose che invece ci interessano la prima cosa che ci interessa relativamente dobbiamo andare a cercare dove sta la funzione quella trojan allora le scorro velocemente ecco start qui è dove inizia eccolo qua va qui è dove comincia il segmento testo che vi ho detto che va a finire sul segmento testo questa è la prima istruzione e così via comunque qui è il main che parte qui sostanzialmente questo è il main che parte ah non vi ho detto scusate questo è l'indirizzo questa è proprio questo è proprio nella colonna seconda colonna insomma è l'eseguibile l'eseguibile quello vero è proprio cioè sono le istruzioni del microprocessore della intel o della md o quello che volete voi è l'eseguibile proprio forse non l'avete mai visto prima ovviamente qui è messo in forma essa decimale quindi questo 3 1 sarebbe il byte 0011 0001 questo è e che sarebbe il 14 quindi sarebbe 1110 di sarebbe quello che è questo è l'eseguibile vero e proprio qui invece nella terza colonna quindi prima colonna seconda colonna terza colonna vedete il corrispettivo assembly dell'istruzione eseguibile che sta nella seconda colonna e quindi sarebbe la parte che in assembly noi siamo in grado di leggere va bene allora qui il main parte qui dobbiamo andare a cercare adesso tutte queste altre cose che vedete sono le funzioni della Iostream che sono state linkate con sono altre funzioni che adesso non ci interessano eccola qua abbiamo trovato la funzione Trojan eccola che sta all'indirizzo 80 48 cioè 08 04 8 7 8 6 ovviamente anche questo indirizzo è espresso in essa decimale indirizzo della memoria parte questa funzione Trojan e quello che adesso fra tutte le cose che fa quella che ci interessa è questa qua questa è un'istruzione dell'assembly che va a fare un calcolo e il risultato del calcolo messo qui viene messo che sarebbe il calcolo che è espresso qui viene messo dentro questo registro EAX che calcolo va a fare? va a vedere l'indirizzo del BP e ci va a sottrarre meno 12 che non è 12 perché è in essa decimale ci va a sottrarre 1 e 2 dunque 1 e 2 1 e 2 sarebbe 16 più 2 18 questo va a sottrarre 18 e sapete cosa ci fa adesso questo è in pratica io da qui vedo l'indirizzo in cui verrà sistemato la variabile locale della funzione Trojan le variabili locali ma c'è una sola c'è quel buffer quindi io so che a quell'indirizzo che sarebbe l'indirizzo base pointer meno 18 esatto quindi andando verso il basso e lo stack esce verso il basso io lì a questo meno 18 ci ho collocato il buffer che è un buffer che era di quanto era era di guarda rivederlo non mi ricordo era di 10 nonostante fosse di 10 è stato allocato a meno 18 quindi il che significa che gli ha dato un certo margine di 8 e dice tanto non lo so hai visto mai che sforasse però 8 ti consento di sforare poi dopo però se vai oltre me vai a sovrascrivere e bp e se me vai oltre oltre me vai a sovrascrivere e ip cioè dove avevo salvato le ip dove avevo salvato le bp prima e poi dove avevo salvato le bp le ip dopo cioè me vai a sovrascrivere come dicevo prima quindi sta a meno 18 il che significa che io posso sforare da 10 a 11 12 13 14 15 16 17 e poi mi devo fermare perché dopo c'è l'ultimo il byte null se vado oltre comincio a far casino va bene è interessante ovviamente questo è molto interessante perché devo sapere dove devo andare a sovrascrivere l'altra cosa che mi interessa quella è l'indirizzo di ulisse questo è l'indirizzo del main e start fa partire il main adesso non ve l'ho fatta vedere prima eccolo qui ulisse eccolo qua giù qua giù c'è ulisse adesso lo ingrandisco un attimo eccolo qua ulisse ecco questo da qui vedo qual è l'indirizzo di ulisse e vedo che ulisse sta allo 08048829 cioè 08048829 a questo punto mi cominciano a prudere le mani perché ho gli elementi fondamentali per andare a fare casino perché io posso torno indietro cerco di ricordarmi un po' questo è Trojan allora ecco qui questa era quella che mi interessava 18 quindi allora adesso non voglio io vediamo se lo faccio ripartire se prendiamo incrociolo di vita speriamo che si riveda sperando che si veda allora fai qualcosa allora sto buffer sta collocato a meno 18 quindi non è come questa figura ci stanno un po' di byte fra il buffer e ebp questo sta 18 sotto e quindi io fino a 18 posso andare poi i successivi 4 mi sovrascrivono ebp i successivi 4 ancora mi vanno a sovrascrivere esp quindi 18 più 4 22 da 22 in poi vado a sovrascrivere ip e quindi allora io che cosa faccio a questo punto vado a vedere il codice di nuovo lo sta eccolo allora il codice mi va a valorizzare il buffer prendendo da sto file e cioè dal flusso pippo e il flusso pippo è stato associato in lettura a un file che si chiama Giacomo Leopardi allora io vado mi vado a aprire sto Giacomo Leopardi eccolo qua e dentro il Giacomo Leopardi c'è scritto Sivia ok anzi siccome adesso devo andare a far un po' di casino e questo casino non è detto che lo possa fare con un normale editore vado a prendere quindi questo corso si chiude con il tool con cui l'avevamo aperto vi ricordate l'editore è sa decimale ho aperto quell'editore l'ho aperto sul file Giacomo Leopardi e ce l'avevi scritto sopra S I L V I A Silvia rimembra ancora quel tempo della tua vita mortale no? allora Silvia sono 6 più la virgola sono 7 più c'è uno spazio 8 quindi così facendo se io adesso vado se io faccio partire il binario Trojan lui mi dovrebbe scrivere Silvia esatto ha scritto Silvia e non c'è stato problema se adesso io riprendo il seditore il sedicimale e mi vado a scrivere Silvia Silvia allora spazio no se ci metto lo spazio io purtroppo ho usato questo ho usato questo qua e quindi questo non me leggerebbe gli spazi allora ovviamente avrei potuto fare con la get insomma non volevo inutilmente complessi rendere complesso allora io che vado a fare adesso invece che scrivo lo spazio ci scrivo un underscore al posto dello spazio Silvia spazio rim rilancio il trojan Silvia Rim salvo non dovrebbero esserci problemi rilancio il trojan Silvia Rim ok a questo punto vado a questo punto vado oltre Silvia rimembre ancora aquel allora rimembre ancora rimembri anche qui c'è l'offset 21 per essere sicuro rimaniamo qui vedete offset vedete in basso qui volta al centro non chissà se lo vedete c'è offset 17 quindi io sto al 17esimo byte di questo di questo file praticamente se adesso scrivo rimembri se scrivo ma sarebbe il diciannovesimo byte e rimembri mi ferma rimembri e non dovrebbero ancora esserci problemi perché in pratica se ho capito bene se ho letto bene quell'indirizzo esatto silvia rimembri me l'ha consentito perché c'è un certo maggi di scordi sconfinamento dopo dopo il buffer e adesso vado esagerare vado esagerare e quindi scrivo silvia rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale e mi fermo perché ovviamente a questo punto ho spianato tutto quanto sono andato anche oltre mi fermo e salvo e se adesso lancio il trojan silvia rimembri ancora quel tempo della vita mortale e poi da errori segmentazione cordam creato e abortisce il programma perché perché al termine della funzione trojan quando doveva restituire il flusso il programma al main è andato a riprendere dallo stack l'indirizzo ip ma io l'avevo spianato al posto di indirizzo ip che c'avevo scritto e c'avevo scritto non lo so devo andare a fare i conti che c'avevo scritto al posto di indirizzo ip al posto di indirizzo ip c'ho scritto devo andare off set 20 off set 18 19 21 22 devo andare a 22 a posto di indirizzo ip c'ho scritto e ancora c'ho scritto underscore q u e ovviamente questi quattro byte messi presi assieme rappresentavano un indirizzo della ram ma è inaccessibile e quindi mi ha dato errore segmentazione cordam creato ecco va bene a questo punto siamo arrivati perché se io adesso torno su vado a prendere l'indirizzo di ulisse eccolo qua ulisse ulisse stava 0804 88 29 allora io dove stai se sul 22 so sul 22 allora io ci vado a scrivere ecco qua so sul 22 invece che scrive sul testo adesso scrivo sul qui sui nasci ci dovrei scrivere sono qui a fianco lo vedo dove scrive 0804 88 28 29 dal 22 ci sto sul 22 questo è il 21 questo è il 22 vediamo un po' io devo scrivere quell'indirizzo lì adesso però siccome c'è una macchina intel amd e non che usa il little engine devo scrivere prima il 29 cioè il 29 scusate nel 29 poi scrivo 88 88 poi scrivo 04 e poi scrivo 08 ho modificato il file salvo e adesso se non ho fatto casini ovviamente 1 era 29 sarebbe la parentesi tonda chiusa l'88 non è un carattere stampabile cioè l'88 non è un carattere stampabile lo 04 non è un carattere stampabile e lo 08 neanche va bene però tutti e tutti e quattro assieme questi sarebbero questo e adesso io ho salvato se io ho salvato adesso che cosa succede se io torno qua giù e mando in esecuzione trojan e trojan mi va a leggere quel file me sovrascrive tutto il macello tutto quanto e poi quando però mi va a fare la ret mi va a prendere quei quattro byte al posto dell'indirizzo IP e dovrebbe far partire Ulisse vediamo un po' eccolo qua ed è partito il virus perché non ve l'ho fatto vedere ma io ho messo ecco questo era il mio virus mi sono nascosto tutta una serie di stampa per far vedere per dare l'immagine della cattiveria e e questo però è un è un virus un po' stupido perché cioè è un diavolo è un geppo fa ridere cioè non ha fatto niente insomma è partito un codice malevolo però ha fatto solamente buh ma non ha fatto un po' di nessuno ovviamente e dopo c'è stato l'errore di segmentazione perché ovviamente perché poi dopo anche quando Ulisse termina perché è partito Ulisse ma quando Ulisse è terminato ovviamente non ha ha restituito ha restituito eh 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 il il ret di Ulisse non puntava al main e quindi non ha ridato eh 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 al main ma ha puntato una zona di memoria casuale e ha dato anche Ulisse eh errore di segmentazione va bene eh allora stavo dicendo questo è un diavolo che fa ridere i polli eh però ovviamente io non lo posso usare questa tecnica qui per fare anche molto male quindi se per esempio giusto per fare un esempio eh vado qui e invece che fare questa roba qui che che fa ridere i polli eh io eh ci vado a mettere un qualche cosa di piuttosto grave io qui cosa posso fare? tutto tutto cioè non c'è limite alla fantasia perché ormai ho preso il controllo della situazione eh ormai sono dentro la città di Troia e quindi a questo punto scorazzo posso fare quello che mi pare perché sto sulla macchina per esempio posso utilizzare ma questo è solo un esempio posso utilizzare eh la 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 questa funzione di libreria del C per eh mandare in esecuzione un comando del sistema operativo è solo una delle tante cose per esempio potrei mandare messaggi di posta elettronica potrei potrei andare a cambiare il odio certe operazioni per farle bisogna che questo questo codice venga lanciato con i privilegi di amministratore del sistema se eh se il sistema operativo lo richiede come tutti i sistemi moderni chiedono per fare cose pericolose se bisogna avere i privilegi di amministratore per mandare in esecuzione codici pericolosi e non quello di un semplice utente eh io per esempio quello che potrei fare e ripeto posso far partire programmi posso eh eseguire comandi del sistema operativo per esempio un comando del sistema operativo è il comando di questo sistema operativo di Linux è il comando alt che spegne la macchina e e spegne la macchina in maniera fra l'altro non proprio eh non proprio non proprio gentile e e e quindi non non si usa normalmente quel comando lì eh oppure potrei fare un reboot per esempio fare reboot cioè questa eh funzione che vedete system manda ehm passa il controllo al sistema operativo che esegue il comando la cui stringa è passata eh come parametro a questa funzione di libreria del C potrei fare un reboot ma eh reboot cioè lascierebbe disorientato il il coso l'utente e invece questo fa più male perché proprio gliela spegne e ponte basta e quindi adesso quello che potremmo fare adesso questa però la devo ricompilare questo mi dà ok l'ho salvata l'ho salvata spero di averla salvata adesso vediamo subito la ricompiliamo e quindi faccio rivedere eh come si fa beh questo forse tutta questa insistenza su come si fa è un po' fuori luogo comunque meno o eh trojan si chiama così trojan punto c pp poi dicevamo che no stack protector spero di non sbagliare protettore no protector speriamo di non sbagliare poi vabbè per il 32 bit questo si poteva anche togliere ma lasciamo perdere e e poi no pie per andare a vedere qual è l'indirizzo di Ulisse ah perché adesso è cambiato il codice ovviamente quindi devo andare a rivedere per andare a vedere devo fare ob j dump meno di e questo eser binario che si chiama trojan eccolo la allora devo andare innanzitutto a rivedere eh qual è l'indirizzo di Ulisse aiuto eccolo qua Ulisse allora lo ingrandisco se voi non lo state vedendo non lo so Ulisse adesso sta all'indirizzo 08 0488 come prima 5 9 che prima era un altro non mi ricordo e ok adesso invece devo andare a vedere la posizione dentro trojan del buffer allora devo andare a vedere la funzione trojan non lo stai non lo stai non lo stai non lo stai mi sono assaltata si non lo stai non lo stai non lo stai sembra che ce l'ho con qualche donna allora eccola qua e tra 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 1 angola da dove stai eccola qui è sempre lì mi pare che era 1 cioè 16 più 2 18 sta sempre lì quindi questo punto io vado da Giacomo Leopardi allora se se lancio per capire insomma se io lancio adesso trojan così che mi fa sì vi rimbri ancora ecco ovviamente come vedete ci sta qualche cosa che non gli è piaciuto perché questo questo qui che non è riuscito a stampare sarebbero quei quattro byte che eh no la parentesi tonda chiusa l'ha stampato poi ci stanno quei tre che rappresenterebbero parte dell'indirizzo di ritorno della funzione Ulisse di prima che però adesso non ce l'ha trovato Ulisse perché Ulisse sta su un'altra parte aiuto già mi sono scordato ecco qui allora 0804 088 59 invece che quello non mi ricordo quant'era prima allora vado a vedere adesso Giacomo Leopardi devo tornare sull'offset 22 perché sempre 18 era ah 29 era 29 quindi al posto di 29 a questo punto ci devo scrivere 59 ecco 59 88 non sta adesso non sta adesso non c'è una memoria e se non c'è una cosa allora 59 88 104 08 ok salvo adesso questo nuovo Ulisse dovrebbe Andiamo a vedere che cosa dovrebbe fare. Dopo aver fatto Boo, dovrebbe spegnere la macchina, la mia macchina. E quindi fra le altre cose spengo Telegram e spengo Team e quindi vi saluto. Allora, questo che adesso faccio, chiedo l'assistenza di Schiti o chi per lui ha fatto partire la registrazione, di consegnare alla registrazione questo saluto che io faccio a tutti voi a conclusione di questo corso. E vi dico che però, un arrivederci a fra dieci minuti, perché io vorrei che quindi, se adesso riesco a fare quest'ultimo esperimento, che dovrebbe concludersi con la mia uscita di scena, io chiedo appunto a chi ha fatto partire la gestione di chiuderla. Dopodiché, appena io scompaio, se riesco a portare a termine l'esperimento, dopodiché però do a tutti quanti appuntamento a fra dieci minuti, quando io cercherò di far ripartire la mia macchina, mi ricollegherò di nuovo a Teams e cercherò di rientrare nella riunione per darvi poi dopo, senza registrazione, le ultime informazioni per quanto riguarda l'esame e anche per i saluti finali. Quindi, per il momento, se qualcuno vuole andare via, lo saluto adesso, saluto tutti e provo a far partire questo virus letale. Questo che comporterà, dopo il bu iniziale, veloce perché non c'è poi pausa, dovrebbe comportare lo spegnimento della mia macchina e la mia di partita. Allora, vediamo se riesco a completare l'esperimento. Dunque, questa cosa qui, spegnere una macchina, è una roba grave, è una di quelle cose che si possono fare solamente da amministratori. Quindi, io faccio partire adesso il Trojan in modalità amministratore. Quindi, il mio sistema operativo è fatto così, quella parola chiave che vedete lì deriva da superutente, poi Dio, non mi ricordo cosa significa. Prendo i privilegi del superutente, cioè dell'amministratore, e una volta presi i privilegi dell'amministratore, faccio partire il Trojan. Ecco perché si deve evitare di lavorare normalmente con i privilegi dell'amministratore. Perché se tu stai lavorando con i privilegi dell'amministratore e becchi un virus, e fai partire un virus che sta dentro un programma che hai fatto partire in modalità amministratore, allora quel virus lì può andare a fare dei danni al sistema. Se invece tu fai partire quel programma con i privilegi di un normale utente, allora quel virus lì più di tanto non può fare. E' come se avessi delle difese, delle barriere, dei dispositivi di protezione individuale, e quindi ti fai meno male sostanzialmente. Allora adesso io invece abbandono i dispositivi di protezione individuale, lancio il Trojan così come... Così come con tutti i privilegi, puoi fare tutto quello che vuole sulla macchina, compreso eventualmente fa partire il programma di spegnimento. Adesso io non so se andrà a buon fine, però se va adesso io premo invio, se va a buon fine è l'ultima cosa che vi ho detto, perché io dopo chiederò, ripeto, di spegnere la registrazione. Allora, un caro saluto a tutti e una rivederci a fra un quarto d'ora, se va tutto bene. Ovviamente devo dare la password. E vado. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.